Indetto per il prossimo 29 marzo, uno sciopero delle lavoratrici del servizio di assistenza all'infanzia negli asili del Comune di Foggia. Si è infatti chiusa negativamente la procedura di raffreddamento in prefettura. La risoluzione del problema sul mancato pagamento delle retribuzioni retrate, ferme al dicembre dello scorso anno, appare molto lontana e non avendo ricevuto le attese rassicurazioni, come Fisascat dichiariamo lo sciopero delle lavoratrici e quanto dichiarato nelle scorse ore dal segretario generale della Fisascat Cisil Foggia, Angelo Sgobbo, che ha aggiunto Le aspettative positive manifestate dopo il vertice del primo marzo scorso si sono dissolte in un nulla di fatto nel corso dell'ultimo incontro tenutosi presso la prefettura di Foggia. Ad oggi non si ha una data certa per la liquidazione delle spettanze retrate, che consistono nelle mensilità di dicembre 2020, 13esima, gennaio e febbraio 2021, anche a causa di dichiarati problemi burocratici che intercorrono tra la cooperativa Astra, che gestisce il servizio, e il comune di Foggia. L'unica nota positiva risultante dall'incontro di lunedì scorso in prefettura, prosegue il segretario Sgobbo, è la disponibilità dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Claudia Lioia, che ha espresso la volontà di convocare l'atteso tavolo tecnico per discutere delle intenzioni del comune di Foggia Circa il prosegue le modalità della nuova gara di appalto del servizio a partire dal prossimo anno scolastico, tavolo programmato per la settimana successiva alle festività pasquali. Sia l'azienda che il comune, purtroppo per ragioni burocratiche, ancora non hanno trovato un accordo, e questo mancato accordo non permette alle lavoratrici di godere dei benefici del loro, del proprio lavoro. Il 29 di marzo probabilmente faremo anche una manifestazione di piazza, non possiamo aspettare oltre, ci sono 50 famiglie, 50 donne che non hanno più una dignità economica e che hanno bisogno di risposte, soprattutto in questo momento difficile, in cui continuano a prestare la loro attività lavorativa, nonostante tutti i pericoli che il Covid porta.